E' un'Italia che parte bene, un 3-1 alla Germania, che comunque credo tu abbia visto buone cose. Sì, ci fa contenti, prima di tutto ci fa contenti il risultato, avevamo molta voglia di iniziare questo cammino, l'abbiamo fatto con una vittoria, sappiamo che abbiamo tante cose da migliorare, da migliorarle con la pazienza che mettiamo palla dopo palla durante i match. Questa è la strada che ci siamo indicati e quindi una partita per volta cercheremo di farlo, cercando di aggiungere ogni giorno qualcosina. Anche nel terzo set, quando fisiologicamente un po' il fiato era corto, comunque la squadra è rimasta lì, concentrata di testa, poi comunque ha ripreso bene. Ma più che il fiato era corto, noi abbiamo fatto due buonissimi primi set, dal punto di vista dell'approccio, dal punto di vista dell'intensità, abbiamo recuperato tanti falloni in difesa, abbiamo messo in difficoltà l'avversario anche con una buonissima intensità con la battuta. Dopo chiaramente qualcosina ci è mancato, nel senso che si vede che è una squadra che deve imparare a vivere le situazioni, perché sono tutte nuove per noi, no? e le vediamo partita dopo partita, situazione di postulazione. Credo che la squadra abbia avuto la pazienza di stare lì, con un avversario che dopo aver vinto il terzo set era più sciolto, più tranquillo. Questo non ci ha non solo creato un disguido, ma non ci ha nemmeno impedito di rimanere lucidi e concentrati su quello che in questo momento è assolutamente la nostra assoluta priorità, che è il nostro gioco. Dobbiamo cercare di farlo meglio ogni giorno passando attraverso le partite e questo credo che, oltre ad essere il nostro intento, è quello che siamo riusciti a mettere in campo oggi. Domani il Brasile. Il Brasile è una bella partita. Tutte le partite sono un'occasione ora per cercare nuove cose, per imparare insieme come possiamo giocare, come vogliamo giocare. È una grande squadra, non è che la devo presentare, con tutti gli effettivi e quindi sarà una partita stimolante nella quale sappiamo di incontrare un avversario molto forte e noi adesso ci riposiamo e domani affrontiamo il Brasile.